sono sara e volevo consigliarvi vai all'inferno dante di luigi garlando perchè è scritto bene è dettagliato si legge velocemente e presenta dante alighieri in modo moderno questo libro fa piangere e poi sorridere di momento in momento e fa venire voglia di rileggerlo da capo appena finito un altro suo punto di forza è che ha riferimenti ai buoni e ai cattivi comportamenti e fa vedere quanto si può diventare buoni se ben guidati e accompagnati la storia parla di vasco un ragazzo di terza media che si crede invincibile tratta mali prof vive in un'immensa villa alla gagliarda e gioca fortnite tutto il giorno quando durante una partita del videogioco a cui è invincibile dante alighieri lo batte vasco è ancora più stupito quando nella chat inizia a parlare in versi allora vuole sconfiggere quell'avversario che però si rivela un amico che gli mostra la diritta via che aveva smarrito così vasco inizia a diventare buono si guadagna nuovi amici e soprattutto un'amica di cui era innamorato il mio momento preferito è stato quando vasco va al meyer un ospedale per bambini e vede quanto sono coraggiosi i piccoli malati mi ha colpito il fatto che vasco si sentisse a disagio una bella frase che ho pensato è vasco che ha dolore dentro di lui pensa che uccidendo a fortnite il dolore sparisca ma invece poi scopre che in realtà essere gentili che fa sparire il dolore ricontrollando questo libro per consigliarlo mi è addirittura venuta voglia di leggerlo di nuovo consiglio questo copolavoro a chi non guarda i numero delle pagine ma a quelli che guardano i libri con il cuore non con criticità e a chi si sente dentro a tutti i libri se volete sapere di più vi tocca leggere Vai all'inferno Dante di Luigi Garlando